Ecco la seconda parte della descrizione della sequenza processuale del caso del papà Giuseppe Padula relazionata dall'avvocato Mirella Zagaria in fase di audizione sulla comunità per minori del mercoledì 16 marzo un elenco che fa impressione perché si capisce, si ascolta che dal 2014 ad oggi è un continuo rifiutare qualsiasi decisione presa dal tribunale per prendersi cura di questo bambino e praticamente con contenziosi, querelle, opposizioni su tutti gli atti e con una conseguenza che ad oggi il padre ha visto il figlio dal 2014 ad oggi 4 ore suddivise in minuti qua, minuti là e una responsabilità genitoriale che fu tolta e poi ripristinata e che poi a seguito appunto della violazione di tutte le richieste fatte dai tribunali di nuovo tolta la madre che ad oggi comunque continua a detenere il figlio in maniera illecita. Io credo che questo caso non debba essere difeso come viene difeso dalle onorevoli in questo modo infame perché si stanno prendendo gioco della legge e dello Stato di diritto in modo inaccettabile con un'arroganza e un modo veramente degno di stati che non dovrebbero essere quelli italiani. Io vi invito davvero ad ascoltare bene tutte quante le parole. Grazie. E adesso vediamo al punto. Dopo questa serie di incontri c'è il periodo del lockdown, quindi c'è una chiusura ma subito dopo il lockdown, la tutrice, e qua ribadisco la tutrice perché si è parlato molto male purtroppo di questa professionista che io conosco e è importante anche che in questa sede, certo conosciamo, siamo tutti colleghi e quindi è una persona che si è sempre molto adoperata per far ragionare la signora, per far capire che il bene del bambino non era solo quello detto dalla madre. Comunque andiamo avanti. 17 giugno, 25 giugno, 2 luglio, 9 luglio tutti incontri che sono stati puntualmente disattesi. Quando? Ma in particolare ci sono delle date che a noi piace ricordare. L'incontro del 17 giugno istanza di revoca del progetto, incontro del 25 giugno di nuovo annullato il giorno prima. 2 luglio e 9 luglio la signora asserisce di non poter portare il bambino per questioni lavorative. Ebbene, la signora Massaro il 2 luglio partecipava ad un incontro Facebook dopo aver postato N post come fa ossessivamente da anni, ogni giorno, sulle sue pagine Facebook. 9 luglio la signora Massaro diceva di non portare il figlio perché aveva problemi lavorativi. Bene. alle 15.06 era al Ministero della Salute a fare una protesta. Quindi la signora aveva il tempo per fare tutte queste manifestazioni ma non aveva il tempo di portare il bambino a fare non quello che era stato deciso da noi ma quello che era stato deciso da una corte di appello. Quali erano le motivazioni che la signora diceva? Quella degli impegni lavorativi? Ebbene, ci piacerebbe naturalmente oltre a questi incontri di tutte queste cose che sto dicendo ci sono naturalmente gli atti, ci sono tanto di screenshot, immagini, prove video che ancora ci sono online. Quindi non stiamo dicendo nulla di nuovo. Qual era il problema? Il tempo del lavoro, no? Bene. Riducendo di molto il copiosissimo elenco mediatico, la signora Massaro con il provavvocato ha presenziato alla Camera dei Deputati conferenza stampa del 5 ottobre 19, conferenza stampa del 20 dicembre 19, conferenza stampa del 17 gennaio 2020, conferenza stampa dell'8 settembre 2020, conferenza stampa del 17 febbraio 2021. Tutte presso la Camera dei Deputati. Durante orari e giorni lavorativi. e non voglio continuare con un entediante elenco infinito di proteste a Montecitorio, Ministero della Giustizia, Ministero della Salute, Montecitorio di nuovo, Tribunale per i minorenni, non voglio elencare un elenco veramente infinito in cui nei giorni lavorativi e in orari lavorativi la signora faceva tutt'altro. Andiamo avanti. Cosa succede? Che il rilevato fallimento anche di questo progetto porta la decisione da parte del Tribunale per i minorenni, decisione che anche noi non nascondo, rimanemmo insomma abbastanza sconvolti perché chiaramente dopo tutte queste manifestazioni, in tutto questo poi c'è da dire che la signora Massaro in udienza, quindi su atti pubblici dove c'è proprio scritto cosa seriva in udienza la signora Massaro. La signora Massaro ha detto sempre che era contraria all'avvicinamento del bambino al padre, ha sempre chiesto un affidamento esclusivo quando il padre ha sempre chiesto un affido condiviso, normale. Il padre voleva solo vedere il figlio, avere un rapporto normale con il figlio come tutti i padri. Soprattutto e ripetiamo, mille volte lo dobbiamo ripetere, quest'uomo non ha mai avuto un procedimento sulla violenza, né psicologica, né maltrattamenti, né stalking, tutto stato puntualmente archiviato. E allora perché si continua a parlare di violenza quando si parla della signora Massaro? Perché? Perché la signora Massaro continua ad andare in un centro antiviolenza che dovrebbe occuparsi di persone che hanno avuto realmente violenza. Perché viene difesa da colleghi che lavorano in un centro antiviolenza, quindi fruendo di un gratuito patrocinio, quando qui violenza non c'è. Voglio continuare brevemente, non voglio ecco. Dopo tutto questo la signora Massaro, cioè il Tribunale per i minorenni, decide nel 2020 di dare ancora un'altra chance alla signora. Ancora, ancora. Stiamo parlando di chance che iniziano dal 2014. Il Tribunale per i minorenni decide quindi di, sempre per attuare il provvedimento della Corte d'Appello, in qualche modo questo bambino doveva essere comunque, doveva fare un percorso psicologico e doveva prima o poi riavvicinarsi a questo padre, cosa succede? Decide di dare un'altra possibilità e di far fare in carica una terza CTU che però doveva semplicemente provvedere diciamo al ripristino di questi rapporti e contemporaneamente il bambino doveva frequentare un centro diciamo per la psicologia perché, ah tra l'altro dimenticavo, tra le varie cose chieste dalla signora Massaro quando prima lei era stata lei a decidere che fosse il gemelli il posto dove portare il bambino, insomma era stata lei a sceglierlo, decide poi che non andava più bene perché il gemelli tra le varie diciamo scusanti portate avanti dalla signora era che era troppo distante dalla sua abitazione e che la signora Massaro impiegava un'ora e mezza per andare, un'ora e mezza per tornare, naturalmente ci siamo sempre chiesti se il bambino lo doveva portare a piedi al gemelli. Comunque cosa succede? Che il tribunale proprio proprio per evitare, no? Problemi di orari lavorativi, problemi di distanza, individua un centro a sette minuti di macchina dalla signora Massaro a Cilia. Dopodiché decide di incaricare questa terza punto ctu che doveva incontrare i genitori e doveva pian piano portare a far sì che questo benedetto minore avesse contatti con il padre. Ebbene, anche tutto questo non è stato minimamente adempiuto perché a seguito di un solo incontro individuale in presenza avvenuto a marzo del 2021 prima che la stessa CTU restituisse le modalità e la pianificazione, cioè quindi la CTU non era riuscita neanche ad avere il tempo di pianificare questo progetto, arriva un'istanza di revoca da parte della difesa della signora Massaro. Siamo finalmente arrivati a giugno. Riscontrato ancora l'ennesimo fallimento, il Tribunale per i minorenni di Roma emette un decreto il 4 giugno dove dichiara, decaduta dalla responsabilità genitoriale la signora Massaro, è un immediato allontanamento del minore dalla casa della madre. Ma non perché ci fosse un'antipatia o perché il collegio o perché ci fosse una specie di complotto dove ormai, secondo la signora Massaro, una trentina di magistrati, 8-9 PM, CTU, CTP, avvocati, servizi sociali, educatori, tutti contro di lei. Tutti contro di lei. Qui non si parla né di violenza istituzionale, le istituzioni hanno dato non una, non due, 10, 20, 30 chance a questa donna che ha naturalmente in tutti questi anni dimostrato di voler semplicemente cancellare la figura paterna, cancellarla. Lei fino all'ultimo, fino a marzo in udienza ha detto che non avrebbe permesso di riallacciare i rapporti del padre col figlio. Stiamo parlando di udienze, quindi c'è tutto scritto. Arriviamo a questo decreto, il decreto è del 4 giugno, siamo quasi alla fine del racconto, è molto bello, cerco di essere molto stringato. arriviamo quindi al 2021, 4 giugno, un decreto di 13 pagine. Io nella mia carriera non ho mai visto un decreto così lungo, perché il Tribunale per i minorenni ha voluto spiegare e analizzare nei dettagli tutto alle motivazioni. In queste 13 pagine c'è tutto. Il Tribunale quindi decide per l'ultima razza. E devo dire, anche qui leggendo un PQM, che non è vero che il Tribunale disponga, come è stato detto nell'audizione precedente, ma anche in mille altre situazioni dalla signora che avesse deciso un allontanamento si ne die. No. Qui c'è scritto, dispone la temporanea sospensione di ogni rapporto. La temporanea. Uno. La signora reclama questo provvedimento. La Corte d'Appello si esprime di nuovo e la Corte d'Appello naturalmente decide di rigettare il reclamo, argomentando ampiamente il perché, affermando che il Tribunale non ha affatto inteso adottare un provvedimento punitivo nei confronti della madre, bensì tutelare l'integrità psicofisica del minore, ormai alla soglia dell'età adolescenziale, sotto il profilo che gli è dannosa per la mancanza della relazione affettiva col padre, che invece la presenza paterna, vissuta continuativamente, è per lui importante e irrinunciabile fattore di crescita. Ma non voglio elencare chiaramente tutto, poi lasceremo alla Commissione questi provvedimenti con tutte le motivazioni. E qui, e anche qui è molto importante, come potrete semplicemente vedere, la Corte d'Appello chiede al Tribunale poi, entro un mese dall'esecuzione del provvedimento, una relazione. Quindi non si parla mai di sinedie, mai. La signora non paga di questo rigetto, cosa fa? Il 26 giugno, nel momento in cui viene comunicato la signora il primo provvedimento del Tribunale, e per noi questa è una cosa gravissima, cioè il 26 giugno la signora posta su Facebook un promo dove dice collegatevi tutte perché mio figlio si sta sentendo male. Bene, questo promo viene poi, diciamo, subito dopo la signora fa un video dove in maniera violenta, con la bava alla bocca, in maniera, che dire veemente poco, inizia a urlare contro le istituzioni e contro chiunque avrebbe portato via il figlio e che gli dovevano mettere una pistola alla tempia. Tutto questo mentre il bambino era nella stanza accanto e si sentiva male. Quindi la domanda è, e questo bambino sono anni che subisce violenze psicologiche, signori, perché questo bambino è costretto da anni a portare i microfoni addosso, per andare a registrare tutto quello che veniva detto dal tutore, dal curatore, che poi la signora doveva sbobbinare e metterne nei suoi atti. Naturalmente conversazioni normalissime, il curatore speciale è l'avvocato del minore, il tutore è posto a tutela del minore, un bambino che ha dovuto subire continue notizie angoscianti, continue parlare di un padre sempre in maniera negativa, sempre come un mostro. Per lui è un nemico, non è il padre, non lo conosce, non lo conosce. Andiamo avanti. Sì, concludo, concludo. Perché deve parlare anche il padre. Allora, velocemente, la signora Massaro nell'agosto fa un ricorso in Cassazione con contestuale istanza di sospensione del provvedimento. La Corte d'Appello, terzo la volta chiamata a parlarne, con terzo collegio differente, tutti i magistrati differenti naturalmente. Cosa fa? Rigetta questa richiesta, questa istanza e dice testualmente sotto il profilo della irreparabilità del danno e il ritardo dell'esecuzione della misura di allontanamento a mettere a rischio la crescita sana e serena del minore. Questo è del novembre del 2021. Ed è qui l'epilogo di una storia che adesso ha avuto un'escalation vergognosa. vergognosa. Perché? Dopo tutto questo c'è da dire che la signora Massaro dal 7 di giugno 2021 inizialmente era scomparsa col figlio. Scomparsa. Scomparsa che vuol dire? Che non si sapeva dove fosse. Non rispondeva né alle telefonate, né alle PEC, né lei né i suoi avvocati. Quando veniva poi chiamata dagli assistenti sociali non rispondeva più. Non si sapeva dove fosse. Il padre ha vissuto momenti di angoscia incredibile. Il tribunale ha dovuto emettere un ordine di rintraccio nazionale, poi un ordine di rintraccio internazionale. Perché non si sapeva questo bambino se era vivo o se era morto, come stesso, come fosse, come vivesse. Non si sapeva. E sapete quando abbiamo saputo che il bambino era vivo? E che il bambino stava apparentemente bene. Grazie a Rete 4. Perché a Rete 4 la signora è andata, naturalmente ha aperto le porte al giornalista, quindi al tutore, al curatore, ai servizi sociali, non si apre la porta. Hanno fatto ben tre tentativi per andare a prendere il bambino, ma non con la forza, cercando di farla ragionare. Doveva... Qui stiamo parlando di uno stato di diritto, se non sbaglio. Siamo ancora in uno stato di diritto? Io mi chiedo? Se ci sono dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, devono essere eseguiti o no? Naturalmente l'ultimo... Ho finito. Ho finito. La situazione attuale, quindi Rete 4, intervista, il bambino sta con me a casa, non lo mando a scuola, non vede nessuno, io lo devo proteggere perché secondo me è l'unico modo, quindi i servizi sociali affidatari del bambino, hanno ricevuto questa comunicazione dall'avvocato della signora Massaro che l'unico modo che avrebbero avuto loro per vedere il bambino era online, perché era la signora Massaro a decidere come il bambino doveva essere visto dai servizi sociali. Ok. A questo punto però c'è da dire che ora sono nove mesi, nove mesi che un bambino vive in meno di 60 metri quadri alla periferia di Ostia, chiuso in casa, non va a scuola, non vede nessuno, tutte le figure poste a sua tutela, non sono, non hanno accesso e questo bambino di cui la signora dice sempre che era malato, la signora non l'ha portato a ben tre appuntamenti al bambino Gesù, ma l'ha fatto visitare da medici che lei asserisce una volta a luglio il pediatra. Ok. Abbiamo finito. Quindi do la parola, sì scusatemi, a signora Padula e capiamo che è una situazione di gravissimo pericolo e siamo molto preoccupati. Prego signora Padula.